Matteo Messina Denaro interrogato pochi giorni dopo la morte dell'ex collaboratore, amico d'infanzia, Francesco Geraci. Potevo ucciderlo, sapevo dove abitava Bologna, ma non l'ho fatto. Lo scorso 4 febbraio è morto all'età di 59 anni Francesco Geraci, l'ex collaboratore di giustizia, amico d'infanzia di Matteo Messina Denaro. Lui, originario di Castelvetrano, ha dimorato da tempo in una località segreta, dopo essere fuoriuscito dal programma di protezione. Francesco Geraci, gioielliere, è stato alla ribalta delle cronache, soprattutto per avere nascosto gli oggetti preziosi di dottor Riina a Castelvetrano, con gli e orecchini, crocifissi tempestati di brillanti, diamanti, sterline e lingotti d'oro, per un valore di oltre 2 miliardi di lire. Ha sofferto di un tumore alla colon, la stessa malattia di Messina Denaro, in riferimento al quale ha dichiarato in più occasioni. Con Matteo Messina Denaro ci conosciamo dall'infanzia perché giocavamo assieme da piccoli. Abita vicino casa mia, in linea d'aria saranno un 200 metri. Un giorno mi chiesero il pizzo, io mi rivolsi a lui e da allora diventai suo uomo di fiducia. Ebbene, il 13 febbraio successivo, giorno del primo interrogatorio di Matteo Messina Denaro dopo l'arresto, lui non è a conoscenza che Francesco Geraci è morto pochi giorni addietro. Il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido sollevano l'argomento Geraci e lui, Messina Denaro, rivendica innanzitutto di non avere voluto ucciderlo, nonostante fosse al corrente dell'indirizzo bolognese segreto dove ha abitato il Lepentito. E racconta, io ho sempre saputo dov'era a Bologna, via Enrico Panzacchi 14, e avevo una gioielleria sempre a Bologna, in via 20 Settembre, nel centro storico. I magistrati si insospettiscono. Come sapeva che abitava lì a Bologna? Messina Denaro risponde, tramite strade mie, loro. E quali erano queste strade sue? Lui. Lei mi vuole portare a dire che era qualcuno dello Stato. Allora, le strade che lo hanno detto a me, ovviamente non ve lo posso dire, perché significa che usciamo da qua e andate ad arrestare persone. E io non le faccio queste cose. Poi Messina Denaro ribatte ancora, io non l'ho ucciso e nemmeno l'ho fatto uccidere. Allora, per rispondere in un altro modo, io non faccio parte di niente. Io sono me stesso, ma devo essere un criminale. Mi definisco un criminale onesto. De Lucia lo interrompe sul criminale onesto e replica. È uno simoro. Lo sa lei cos'è uno simoro? La risposta di Messina Denaro è pronta e immediata. La gelida fiamma. Citando l'esempio tipico dello simoro sui libri di scuola. Poi prosegue su Francesco Gerracci, che per il capo mafia non è stato solo un traditorre, ma anche un ladro, e afferma. Lui senza di me sarebbe stato un morto di fame, invece era miliardario. Ma va bene così. Ma quando tu sei uomo, tra virgolette che non lo era, ti fai pentito. Dai tutte le colpe a me. Fai passare un anno, due anni, tre anni e dici ai tuoi familiari. Prendete la parte che aveva questo signore con noi e gliela fate avere alla famiglia. Cosa che non accadde mai. Quindi questa è disonestà, secondo me, però.